Lo saluteranno nell'oratorio cristiano, giovedì mattina alle 8 e 30, prima che la salma parta per Casablanca, dove verrà tumulata nel cimitero musulmano. L'ultimo saluto a Yousef Wizi, il 17enne che venerdì notte è precipitato dall'ultimo piano del grattacielo di via Pisa a Treviso. Non abitava in quel palazzo, ma in via Ellero, rettifichiamo nella notizia, e la famiglia non ha mai avuto problemi di morosità, perché semplicemente non ha mai avuto a che fare con il grattacielo più alto e più controverso della città. Certo, ci si chiede chi abbia aperto l'ascensore a ragazzo, visto che tutto è regolato da schede personali, e se c'era qualcuno in quei minuti prima del vuoto. Un volo di una quarantina di metri, senza un grido, un lamento. Poi le lacrime dei genitori della fidanzatina, alla quale ha scritto il suo ultimo messaggio col telefonino. E forse di mezzo c'è proprio l'amore, con una contesa per delle ragazze, tra gruppi giovanili di rumeni e marocchini, sul piazzale del quartiere di San Bartolomeo, poche ore prima del tragico gesto. Ora l'abbraccio alla famiglia marocchina lo dà tutta la comunità di Santa Maria del Rovere, con il parroco Don Adelino Bortoluzzi, che ha aperto l'oratorio per la cerimonia di saluto della comunità musulmana.